Ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini all'esito di queste due partite di qualificazione per Euro 2024, sconfitta contro l'Inghilterra e vittoria contro Malta, ha parlato ancora della situazione della nazionale, degli oriundi, dei giocatori convocabili e delle questioni che sono rimaste aperte e che stanno creando dibattito sulla nazionale. A margine di un torneo di padel a Roma, Mancini, con un atteggiamento non certo aperto al dialogo ed anzi un pochino infastidito, si è contraddetto nella stessa frase e in più frasi più volte. Per esempio per quanto riguarda la vecchia guardia, ha detto per me la vecchia guardia come la definite non è vecchia, parlando dei giocatori ultratentenni che continua a convocare in nazionale, si pensi a Bonucci e a Dacerbi per esempio, il problema, dice, è che quando vengono in nazionale sono stanchi perché giocano troppe partite. Dall'altra parte, e proseguendo l'ha detto nella stessa frase, per quanto riguarda quelli più giovani il problema è che neanche giocano abbastanza nelle loro squadre di club. Noto solo io la contraddizione? Cioè nella stessa frase Mancini dice che quelli meno giovani giocano troppo e quelli giovani giocano troppo poco, insomma non va mai bene nulla. Se giocano troppo vuol dire che forse bisognerebbe non convocarli perché non sono freschi abbastanza, ma dall'altra parte che sono validi perché appunto giocano nei club e quindi vuol dire che sono dei titolari. Dall'altra parte, se i giovani giocano meno o secondo Mancini non abbastanza, sarebbero convocabili perché più freschi ma forse non sono abbastanza forti perché appunto non giocano. Il problema è che il CT di una nazionale dovrebbe scegliere che linea adottare, che linea seguire e quindi se ringiovanire effettivamente la squadra oppure affidarsi alle certezze che però sono giocatori stanchi. E da un'altra parte non è vero quello che dice Mancini sul fatto che i giovani giochino poco perché di classe 2000 a salire e a scendere, quindi comunque diciamo under 25 nel campionato italiano e in generale di nazionalità italiana, ce ne sono che giocano e che hanno giocato fin qui oltre 1000 minuti o comunque una quantità di minuti e di presenze adeguate e sufficienti per valutarli e per prenderli in considerazione per delle convocazioni. Insomma sono più gli esclusi eccellenti da parte di Mancini in queste convocazioni che le convocazioni fatte bene. E sul discorso Zaniolo e Zaccagni, due dei giocatori lasciati a casa, due degli esclusi, Mancini si è superato. Dicendo ci sono delle valide ragioni per cui non li ho convocati ma tutti quanti parlano senza sapere nulla. Al che? Il giornalista gli ha detto siamo qui apposta per sapere e Mancini invece di cogliere l'opportunità per serenamente e rispettosamente rispondere dando la sua motivazione ha detto questo non è il contesto adeguato per dare queste spiegazioni. Per la serie parlate senza sapere le cose, aspettate che adesso vi dico come stanno le cose? No, non ve lo dico, faccio il prezioso perché questo non è il momento, però sappiate che c'erano delle valide motivazioni. Talmente valide che non ha saputo spiegarle, che non ha saputo fornirle, non ha colto l'opportunità per fare chiarezza. Insomma, l'ennesima occasione per Mancini per essere più chiaro, più aperto, più disponibili al dialogo, un'occasione però persa. Che non fa altro che corroborare e giustificare le critiche che gli vengono mosse, anche se sono delle critiche assolutamente marginali, perché la gran parte dell'opinione pubblica dei giornalisti e degli opinionisti è dalla parte di Mancini, lo protegge, lo giustifica perché ha vinto l'Europeo. Senza contare il discorso Oriundi, sul quale vi dico come la penso io. Non c'è nessuno scandalo nel convocare Oriundi in nazionale, ci sono sempre stati, non solo da parte dell'Italia. Il problema, casomai, è andarseli a cercare appositamente invece di trovarseli per caso, cogliendo l'opportunità. Inoltre stiamo parlando di una nazionale che quindi non deve, tra virgolette, acquistare giocatori come se fosse un club. Se la nazionale italiana ha delle debolezze ed è una nazionale mediocre, ipoteticamente per i giocatori che ha a disposizione, Mancini si arrenda sia il CT di una nazionale mediocre con umiltà. Se non vuole essere il CT di una nazionale mediocre, suo malgrado, per colpe di altri, si dimetta e lo lasci fare a qualcun altro. O accetta di essere il CT di questa nazionale e gestisce quello che ha a disposizione cercando di valorizzarlo, oppure se questa nazionale non gli piace, nessuno lo obbliga a restare. La via di mezzo, cercare di rinforzare disperatamente la nazionale facendo ricorso agli Oriundi, ma andandoli appunto a cercare scavalcando chi è italiano da sempre e gioca magari anche in Serie A, non è altro che una strategia più politica che tecnico-sportiva che non credo che faccia il bene della nazionale. Opinione mia, qual è l'opinione vostra? Confrontiamoci, il dibattito è aperto, ma Mancini non dà chiarezza. Grazie.